a un video? e che è? questo lo sono dimenticati quando hanno registrato l'altra volta tanto non penso che se ne accorge oh bella rica, anzi dovrei dire salva a tutti patatonsi e patatonze vi riconoscete? e taglie? so io? so richetta? ma che già vi siete dimenticati? cioè per poi basta che non se vede per due settimane, tre settimane, quattro settimane quello che è insomma e va dimenticate non lo so, vabbè comunque me lo so tornata e me mangio pure sto magnum prima che si sguaglia insomma come va stata vive sta quarantena? io non ce le volevo crede sono stata una di quelle che non ci hanno creduto insomma e mi sono detta vabbè oh ma te pare che ora c'è stato sto virus sto corona ma vedete che vi approva a me e io non scampate pure di peggio quindi ero così un po' come si dice come si dice quando uno è scepico aiutate ma dico me vabbè vabbè insomma che ci credevo eh ma zappano sto cosa per una certa però una certa mi sono dovuta ricrede mi hanno confinato qua sto a casa dei feri mi faccio vedere ogni tanto però sto qua poi questa si è messa dentro casa uno dice che è un ospite che devono fare un progetto quando stanno tutti i giorni alla ora al computer a scrivere cose io non capisco niente quindi mi faccio fattimia certo non è che sia proprio per massimo ehm io sto meglio quando sto da sola ve lo dico però è pure vero che dovendo passare tempo che fai cioè parli da sola a fine penso che diventi scema e quindi vabbè pure averci qualcuno con cui hai fatto chiacchiere a fine non è proprio malissimo ecco basta che se teniamo tutti a distanza quello ho detto subito a distanza di sicurezza minimo un metro oppure dentro casa perchè io non voglio responsabilità e soprattutto non voglio che mi attaccano qualche cosa vabbè poi a fa la spesa ma ovviamente ce vanno loro cioè io non mi muovo proprio sto qua io ho fregato perchè il vestito davvero c'ho sta maglietta che non si vede bene aspetta la faccio vedere è quella con il traghetto insomma dei qua pampling mi pare che si chiama non so fighi queste magliette me ne sto frea qualcuna scusa che non ho i panni non so fighi se dice non so fighi non so fighi non so fighi Comunque Per dire la verità Sono tornata perché Mi hanno chiamato Cioè voi mi avete chiamato Mi sono messa a leggere un po' dei commenti Nei vlog che fa A beni E qualcuno ha proprio scritto Oh ma quando torna Righetta Eccomi la sto qua Che poi A maggior parte di voi Io non so se siete Come si dice Studiati Cioè mi pare da norfabeti perché sbagliate sempre il nome mio Io mi chiamo Righetta Righetta Colere di Roma No colere di Ergatto Eh Tutti zuccheristi così Oso piena dei gelati Qua dentro Ho visto che hanno riempito Proprio il freezer Ci sono fatti certe scorte E probabilmente Non gliene frega niente Dalla forma fisica Poi Feri sta fa quei esercizi inutili Perché tanto Non è che gli cambia il fisico A me mi frega niente Io tanto il fisico buono ce l'ho Quindi posso mangiare quello che mi pare Buono Mi sono zuzzata tutta Ma non t'ho visto che pure Feri si zuzza quando magna Lei fa tutta perfettina Ma te che Ogni tanto io vorrei proprio di Non m'azzardo perché se no mi caccio Però dite io oppure voi A Feri ma parla come magni Eh Lei che fai tutta quella che Che usa i termini Cioè Lei voleva quella studiata Però Cioè Ma che ha studiato Scienze dei merendine Almeno io Ho fatto la scuola Dalla vita Quindi ci capisco qualche cosa di più Specialmente su certi tipi di argomenti Ma St'influenza Sto Sto virus qua Per quanto ancora Deve continuare Eh Mamma Stanno a chiedere tutti Quanto deve continuare Eh Cioè io non è che so magica Non è che posso fare Una previsione Però Però Vi posso dire Che se vi comportate bene E ve ne state chiusi dentro casa Sicuramente non uscimo prima Vedete Vedete Righetta Questo è un po' Come è sicuro Mi hanno raccontato De gente invece Che sta Così A fare passeggiate Non lo so Senza motivo C'erano mancorcare questi E Passeggiano Io dico Ma che ve passeggiate Che ce la vede a passeggiate Voi passeggiate dentro casa No Ce la vede nella casa Eh Io mi faccio certe belle passeggiate Qua dentro Meglio che niente Ma soprattutto Non avendoci più Una casa mia Mi sono collata qua E quello Devo fare Adia verità Quando ci sta pure solo feri Ancora ancora Recco Perché comunque Cioè È un po' tocca Conosco Ormai la so che si Però c'è sta Il gatto C'è sta Quell'altro tizio E un po' Qua Cominciano a diventare Diversi L'equilibrio Eh Lo so Sto a dire una cosa Abbastanza complicata Per chi Magari Non se ne intende È una cosa De psicologia Questa Però Io pure L'ho letta Ci stanno un sacco Di articoli Su internet Oppure sulle riviste Che parlano Di queste cose Di queste convivenze A gente che litiga Che dopo un po' Non si sopporta più Questi ancora Non si è salti Di piatti Non so come hanno fatto Allora vediamo Aspettiamo Un'altra dieci giorni Ho comunque visto Come sono imparata a fa I video domani No Quelli SMR Come si chiamano Mucche e panche Mi pare Mucche e panche Ho visto Che in età Che scrivono pure Com'è Eating Sounds Mi pare Che si dice così In inglese Mi ha detto Se sentono tutti i rumori Di questi che mancano Certi Lo fanno proprio In maniera A porgare Io comunque Era stata una signora Cioè Non è perché E mu vengo Da Posto Che non è proprio Il centro Un po' di niente Questo Uno c'ha proprio Origini umili Però se comunque È una signora Io sono signora E quindi il gelato Magno bene Oh vedi Riesca a essere fine Pure quando Mezzozzo Come si squaglia Tutto Madonna Un botto De calorie Stasera Mi sa che non bagno Io ti vuoi Non preparare La cena A questi Vabbè Comunque Datemi notizie Pure vostre Che state a fa' Come passate il tempo In quarantena State in quarantena Sì Mica uscite Non fate scherzi Eh Fatemi sapere Scrivetemi qualche commento Qua sotto Spero di poter rispondere Io che non risponde Quell'altro E fatemi sapere Che fate Datemi qualche idea Perché E pure un pochetto Mi potrei pure Annogliare Alla fine Dopo che uno Si è guardato Tutte le puntate Vecchie del trono Verde O miei tonne Cioè Hanno certo Non sa più Che deve fare Comunque Vabbè Basta Ce la do E lo rimetto A posto Magari dopo Sono magna qualcuno Io Vi saluto E vi ringrazio Forza Roma Passa Lazio E Ci vediamo Ad altro video Sempre che Restiamo tutti vivi Perché qua Non è detto Vi saluto Ciao Adesso Tocca a te Hai già lasciato Il mi piace Iscriviti E clicca sulla campanella Per non perderci di vista Oppure abbonati Se vuoi sostenermi Ed entrare a far parte Della Fairy Crew Ah E se vuoi continuare A rilassarti Clicca su uno Di questi altri video Che ti lascio Qui intorno Penso Possano piacerti Buonanotte Per na M